Ciao amici VL, questa è stata la mia suite per ben 22 giorni. Allora, reparto alimentare con integrazione, salviettine, creme da sole, tutto quello che mi serve per mangiare. Reparto cose intime per la notte, per il giorno. Reparto magliette e reparto accessori che non si vedono, ma ci sono. Dopodiché questo è stato il posto dove ho dormito per tutte le pause che ho fatto in questa Trans-Siberian Extreme Race e soprattutto la mia mascotte che è sempre stata con me. Ciao amici VL, a presto!